L'Arcantea torna alla vittoria e lo fa con una prestazione di grande sofferenza, ma in cui si è visto quale carattere possa mettere in campo questa squadra. Eppure l'avvio sembra confortante con i biancorossi che prendono il comando senza difficoltà. Putignano orchestra un 7-0 che riporta a contatto i suoi e da lì nasce un equilibrio costante. Lucca trova due triple di Drocker in uscita dalla panchina, ma si blocca difensivamente. Nemmeno la zona dei frutti e Sassari comincia a mettere le mani sulla partita. Nel terzo periodo Musso regala ai suoi il massimo vantaggio a più 11. L'Arcantea sembra incapace di reagire, ci sono un paio di parziali di 5-0 ma manca la continuità e la Robur resta avanti con Musso realmente incontenibile. Il pubblico del Pallatagliate inizia ad avere paura perché vede i ragazzi in difficoltà, ancora sotto a meno 11. A quel punto però scatta qualcosa. Russo trova un quintetto che riesce a mettere energia e lo lascia in campo. Giocando di squadra e con una difesa assolutamente all'altezza, Parente e compagnia piazzano un micidiale 21-1 che piega la resistenza degli ospiti, che però hanno la chance di rientrare a meno 2 ad un minuto dal termine, con De Sole che sbaglia una tripla assolutamente libero dall'angolo. Sospiro di sollievo e due punti fondamentali per un'Arcantea alle prese con qualche problema fisico.